Manca un mese. Il 10, l'11, il 12 settembre arriva la risposta dell'ingegner Biadene. Non entro in merito alle affermazioni piuttosto azzardate del comune di Erto. La situazione qui è tenuta sotto controllo dal nostro ufficio locale. Ma che controllo? La scossa del 2 settembre ha compromesso l'equilibrio già instabile della frana. Il 12 settembre un'altra scossetta fa camminare la frana, tutta insieme, di 22 centimetri. E cosa vuoi che sia? In certi punti la frana ha camminato per metri. E no, è diverso. Ti sto dicendo che le paline di rilevazione, tutte 24, in alto e in basso, dopo il 12 settembre hanno fatto un salto avanti tutte insieme. Cristo! La frana del TOC è una sola, altro che due zolle. Questa si muove tutta insieme! Tempesta di cervelli! Il 17 settembre terrorizzati si ritrovano all'impianto a discuterne i tecnici della Sade Enel. O dell'Enel a questo punto. Chi sono? Ingegneri! Perché i geologi li hanno licenziati da due anni. Caloi continuava da mesi a mandare rapporti allarmati, ma tutto sommato isolati. E nessun altro geologo viene più consultato in questo periodo. E poi la commissione di collaudo sono due anni che non va più al Vaillant. E allora le castagne te le devi cavare tu, ingegner. Biadene dà ordine di chiudere i rubinetti, le saraginesche, di bloccare il livello dell'acqua nel serbatoio. Per sette giorni tengono l'acqua ferma per vedere se in questo modo si stabilizza la frana. Niente da fare. Al ritmo di uno o due centimetri al giorno il TOC si muove. Cristo non si ferma più. Il 24 di settembre c'è l'ultima tempesta, l'ultima riunione. Sono in pochi ormai. Nel frattempo hanno cercato di avere qualche informazione dai geologi. Un'istruzione, ma un geologo non è un medico di base. O gli hai dato il modo di seguire lo sviluppo di una storia? O soltanto un cretino si sbilancia oggi per domani? Te le cavi tu le castagne dal fuoco adesso? Hanno rassicurato l'Enel che è tutto sotto controllo, ma al tempo stesso hanno cercato di avere aiuto. Non capiscono. La situazione è questa intorno al tavolo. Sono fermi a quota 712, con una raccomandazione nel cassetto di non superare più la quota di 700. Dunque bisogna togliere 12 metri d'acqua. Sì, facile. Ogni volta che fanno i controlli nei tubi piezometrici, sono quelle lunghe tubazioni che vengono infilate nei fori dei carotaggi per sfruttarli anche dopo, in maniera da controllare l'altezza della falda acquifera dentro la montagna. Ogni volta che fanno i controlli dentro i tubi piezometrici, trovano che ormai il livello dell'acqua dentro la montagna è via via sceso, 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 fino a diventare uguale a quello del lago. Come dire che non è più una montagna compatta, ma è come un mucchio di ghiaia che non trattiene più l'acqua. Non è permeabile. È completamente inerte, frantumato sotto. Quell'acqua davanti nel lago è anche un muro, una forza fondamentale per sostenere il fianco della montagna. Se gli togli l'acqua di fianco, che cosa farà la montagna? Continuerà a scivolare piano piano o si metterà a correre? Domandaglielo. Nessuno ha mai parlato così a lungo con una frana prima di quella del TOC. Ma l'ingegner Viadene non è uomo da colloqui solitari con la montagna come dal piazzo. No, è razionale. E dunque l'ordine è... Togliete l'acqua. L'ordine viene trasmesso al capocantiere, Pancini, il giorno 26 settembre. Il giorno dopo Pancini parte per le ferie, va in America. Se vi serve qualcosa, ciameme. Buon viaggio, ingegner. Arrivederci. L'acqua inizia a scendere al Bayon, il giorno dopo, al ritmo di 70 centimetri al giorno. E la montagna? Dietro! Non 70. No, il primo giorno sono 9, poi 10, poi 11. Aumenta. Aumenta. Più tolgono l'acqua dal serbatoio, più accelera la montagna, come già era successo a Pontesei nel 59. Che ore sono, per favore? Non manca tanto. Non ci sono precipitazioni straordinarie e rilevanti nell'ultima settimana prima del 9 ottobre 63. Quel che accade è direttamente legato a questa gara. Riusciranno i nostri eroi a portare l'acqua nel serbatoio, alla quota di sicurezza, prima che gli caschi in testa la montagna? E la gente che ci abita sopra il TOC, che facciamo? Quelli bisogna sgombrarli, mandarli via, ordinanze di sgombero. E la gente che ci abita davanti? Quelli no, quelli li teniamo. A quelli non si dice niente, quelli vengono rassicurati, anche se boati, scosse aumentano, provocano telegrammi allarmati dal comune di Erto. Scherzano gli operai, scherzano giù a Longarone, dicendo, oh, sapendo quel che succede su. Se quando casca la montagna la diga tiene, ciao Erto, ma se quando casca la diga molla, a Longarone andate in giro con stivali e con l'ombrella. Ma tutti sanno che la montagna sta cascando, tutti scherzano su questo e proprio perché tutti lo sanno nessuno pensa che ci sia pericolo, perché se lo sanno e non ti mandano via vuol dire che è tutto sotto controllo e invece la situazione si aggrava. Un telegramma dell'Enel Sade al comune di Erto Casso in data 8 ottobre 1963, ore 12, urgente. Acceleramento del movimento franoso zona TOC rende necessario sgombero delle persone. Segnaliamo quanto interessato procedere urgentemente. A seguito del telegramma il comune di Erto fa un avviso che viene pubblicato. Si porta a conoscenza della popolazione che gli uffici tecnici dell'Enel Sade segnalano la instabilità delle falde del TOC ed è pertanto prudente allontanarsi dalla zona che va da Costa Gervasi o alla Pineda. La gente di Casso in modo particolare si preomuri di approfittare dei mezzi dell'Enel Sade per sgomberare la zona. E siccome le frane del TOC potrebbero sollevare ondate paurose su tutto il lago, si avverte ancora tutta la gente che è estremamente pericoloso scendere sulle sponde del lago. Le ondate possono salire per decine di metri e travolgere, annegandolo, anche il più esperto dei nuotatori. Chi non ubbidisce ai presenti consigli mette a repentaglio la propria vita. Erto Casso, l'I8-10-1963. Siamo all'ultimo giorno. Oggi, 9 ottobre, 34 anni fa, era una giornata di sole. Oh sì, una di quelle giornate che in montagna è più limpido che d'estate. Ma che scuola, se sei un bambino, una giornata così, prendi e vai su, magari sul TOC. Perché in una giornata del genere si vede Venezia e da Venezia senti arrivare i fili del telefono. Da Roma a Venezia, Venezia a Longarone, Longarone a Vaiont, roventi di telefonate. Biadene che telefona al geologo Penta a Roma. Penta da Roma lo esorta a non fasciarsi la testa prima di essere la rotta. Gli dice che la situazione vista da lì non gli sembra così grave. Quell'altro gli dice che da Longarone sì. Poi scrive al capocantiere, pancini, mi spiace ma devo farla rientrare dalle ferie, pancini. Oggi la velocità di avanzamento della frana è accelerata del 50%, che Dio ce la mandi buona. La resa mistica. È comodo, ingegnere. Non hai più tecnica, ti resta la resa mistica. Alle sei di sera chiude il cantiere. C'è una macchina che lo aspetta per riportarlo a Venezia. Qui, alla cabina di controllo, sopra la diga del Vaiont, resta un geometra, Rittmeier, con i suoi operai. Sono in due nella cabina di controllo. Le ultime ore del 9 ottobre hanno tolto un metro e mezzo d'acqua per arrivare alla quota di sicurezza. Ce l'hanno fatta ma la montagna ormai cammina a occhio nudo. Quando arriva il buio accendono una foto elettrica. L'ultima notte che questa valle ha visto le foto elettriche è stato il 9 ottobre del 63, che sembrava a questi che fossero tornati tedeschi a far rastrellamenti, e invece no, che quella notte le foto elettriche illuminava i pini che si erano messi a inclinarsi le ultime ore a occhio nudo. Rittmeier è lì nella cabina a vetri, vede la montagna che gli casca, fa due calcoli e si accorge che anche se arriva un'onda di 30 metri solamente, li travolge. E poi travolge certe frazioni di Ertocasso che non sono state sgomberate. Ma lui è un geometra, non può sgombrare un paese. Telefona l'ingegnere a Venezia. E qui parte la leggenda del Vaiont, di una centralinista che abbia sentito la telefonata, si sia intromessa a chiedere che cosa state dicendo. C'è pericolo per l'ongarone o la bambina signora nostra, tranquilla. E dorma bene. Rittmeier viene rassicurato, rincuorato da Biadene che lo esorta a dormire con un occhio aperto, un occhio chiuso, che non è facile. In base alla telefonata vengono allertati i carabinieri di Ertocasso, quella notte a istituire un posto di blocco. Nessuno può percorrere la strada, quella notte che da Ertocasso scende a Longarone e viceversa. Anche l'ingegnere Caruso, che lavora per la Sade, per l'Enel a Venezia, il vice di Biadene, ha degli ordini, delle richieste per polizia stradale e carabinieri, cui viene richiesto di preparare posti di blocco preventivi sulla statale di Alemania, a Tai di Cadore e Ponta nelle Alpi, a nord e sul di Longarone. Con che motivazione? Credo non disturbare la frana, non ne vedo altre. E Longarone è lì, davanti alla gola, perché a Longarone non si dà l'allarme d'evacuazione? Per non creare panico? O perché è un rischio calcolato? Ma insomma i tecnici hanno le famiglie qui al Vaion, qualcuno si aspettano la fine del mondo, manderebbero via almeno la moglie, no? Ma li hanno rassicurati che tutto è sotto controllo, adesso che ore sono? 35? O mancano 4 minuti? Non si sgombra un paese in 4 minuti? Il 9 ottobre del 63, a quest'ora Longarone è piena di gente, nei bar, a guardare una partita di calcio, Ranger Glasgow contro Real Madrid, c'era l'Eurovisione che era una finta diretta, cominciava alle 10 di sera, dopo la partita iniziava l'Eurovisione e il secondo canale a Longarone era arrivato da pochi mesi, e così quanti ragazzi scendono dalle frazioni per andare a vedere la partita a Longarone, davanti ai bar, file di biciclette e motorini e dentro al bar nuvole di nebbia, poi un trespolo e a 3 metri la televisione, bianco e nero che filtra tra bestemmie fino al tavolo da gioco, gente che gioca e guarda la partita, ma non è la sola occasione per andare a Longarone, c'era il cinema a Longarone, le gelaterie, fa città a Longarone, non è mica paese, vuoi trovare una ragazza in giro di sera? Mica stai qua, vai giù a Longarone, in strada, piccola Milano la chiamava a Longarone, qua su, in valle, dove siamo noi, oltre la diga, un silenzio feroce, l'ultima bava di ragno che tiene unita la frana al resto della montagna, rotta, e la frana è ancora là, su un piano inclinato, non c'è mica niente che la tenga attaccata al resto della montagna, ma è lì, ferma! E poi va, cos'è che la fa andare? Quanti sono? 260 milioni di metri cubi di rocce, non è mica questa roba qui, quella dove siamo noi è un francobollo sulla frana del Vaillant, ma che ti illudi? La frana del Vaillant è partita lassù, 5-600 metri più in alto di dove siamo noi, su un costone di montagna che non si vede, lassù in alto, abbarbicati stavano i boschi, un mondo intero fatto a M che alle falde aveva stalle, una latteria, aveva case, una strada, campi coltivati, due torrenti, uno stagno, colline, boschi, un mondo intero fatto a M, con gli animali nelle stalle che muggisce disperati, con quelli alla catena che soffoca per scappare, con gli umani che sono lì per governare le bestie e capisce di colpo che è troppo tardi! un mondo intero passa da 60 centimetri a 100 chilometri all'ora, adesso! e non lo fa in silenzio, testimoni oculare il parroco di Casso, apro la finestra, vedo i fili dell'alta tensione che arriva dall'Austria che spacca, un corto circuito che illumina a giorno la vallata, i pini che si inclina violentemente e scivola, un bosco intero che corre verso il basso, ma quale Macbeth, la montagna intera insieme al bosco corre, riempie una zolla la vallata, sbatte la seconda zolla che gli si capovolge sopra, risale i costoni della montagna fin dall'altra parte, una collina intera, il collo isolato viene preso e inclinato di 40 gradi, l'urto fa rimbalzare indietro la prana di 40 metri, le montagne del Toc dopo il Bayot si troveranno 150 metri più in alto dal punto in cui sono partite, questo è il mondo sul quale appoggiamo i piedi adesso!